Abbiamo deciso molto tempo fa di intraprendere questo viaggio grazie anche alla mia qualifica ottenuta con la vittoria della Ostar. Questo viaggio in tre, io, mia moglie e il bimbo, nato appena dieci giorni, se vogliamo una piccola follia, ma siamo sentiti sicuri di farlo. Io navigo per i mali, lei naviga per i cieli, siamo entrambi naviganti e questa esperienza ci ha unito e convinto di fare questo bellissimo viaggio di un mese. E siamo venuti da Cagliari appunto il 20 settembre scorso a tappe, abbiamo passato Gibilterra che il bimbo aveva 17 giorni, abbiamo fatto il passaporto a tre giorni dalla nascita del bebè e poi siamo arrivati nel golfo di Biscaglia, abbiamo preso un Forza 7, tutto è andato molto bene e siamo arrivati qua dopo un mese. Adesso si volta pagina, l'avventura del viaggio è finita e si pensa alla regata per andare il più forte possibile, fare il miglior risultato possibile.